Buongiorno Davido, prima di partire oggi un ricordo del pioniere di internet David Mills conosciuto come Dave Mills che ci ha lasciati qualche giorno fa a 85 anni e è uno delle persone che ha contribuito proprio alla creazione dei primi protocolli di internet ha lavorato a Arpanet, ha creato il Fuzzball Router che è uno dei primi router proprio su cui si reggeva l'infrastruttura ha creato una delle prime implementazioni di FTP ma è soprattutto noto per aver creato il protocollo NTP che è il Network Time Protocol che voi l'abbiate usato direttamente magari da una command line Unix per sincronizzare il vostro orologio di sistema oppure che lo facciate in maniera trasparente perché il vostro device si sincronizza automaticamente con appunto dei server ecco sicuramente avrete molte volte nella vostra vita utilizzato il protocollo NTP che come dice il nome Network Time Protocol è proprio un protocollo che serve a sincronizzare il tempo alt'epoca in cui lui lo inventò nel 1985 era un'operazione cruciale e appunto basandosi su un algoritmo preesistente lui disegnò questa struttura gerarchica che è una struttura sia client server che anche peer-to-peer in un certo senso perché si basa su un nodo diciamo ad alto livello o a livello zero ecco che magari è un orologio atomico qualcosa che siamo sicuri ci dia un tempo giusto poi dei server che leggono da questo device e quindi fungono da ecco sorgente del tempo della misura del tempo e poi in sequenza in gerarchia dei client che si connettono a questi server per prendere le informazioni sul tempo corretto i server possono anche mandare informazioni in broadcast, in multicast quindi si va a livelli successivi che vanno a scaricarsi queste informazioni poi a loro volta questi livelli possono fungere da server per livelli successivi e quindi mandare le informazioni anche ad altri livelli e sullo stesso livello della rete possono condividere tra loro scambiare tra loro informazioni circa appunto il tempo il time che è stato preso dal server ve l'ho spiegata molto alla buona però questo è NTP e dall'85 a oggi ha subito 4 aggiornamenti siamo alla versione 4 il più importante in realtà riguarda la rappresentazione del tempo che è rappresentato in secondi e millisecondi originalmente Mills l'aveva creato con 64 bit rappresentato in secondi con 64 bit 32 bit per i secondi e 32 per i millisecondi questo faceva sì che il tempo totale fosse di 136 anni lui aveva fissato il tempo zero Epoch il primo gennaio del 1900 quindi saremmo arrivati fino al 2036 con la versione 4 abbiamo ampliato il range dei secondi fino a 128 bit quindi 64 bit per i secondi 64 bit per i millisecondi questo fa sì che il tempo che possiamo rappresentare secondo proprio le parole di David Mills comprenderà praticamente tutta la durata dell'universo che stiamo vivendo fino alla chiusura allo spegnimento totale di tutte le stelle questo era un piccolo ricordo ecco di David Mills che ripeto insomma uno dei pionieri dei creatori dei protocolli dell'internet moderna fin da Arpanet e conosciuto proprio per aver inventato e rilasciato dalla sua università del Delaware dove lavorava e dove aveva insomma un insegnamento fino agli ultimi anni ci ha lasciati così quindi dopo aver ricordato ecco questo questo professor Mills andiamo con alcune news oggi allora prima di tutto un piccolo aggiornamento sulla questione Fujitsu che abbiamo visto in introduzione nell'ultimo episodio per chi non l'avesse sentito tanto vi consiglio di darvelo a sentire ma un brevissimo riassunto Fujitsu con il post office UK quindi con le poste del Regno Unito hanno deployato un software nel 1999 un software buggato e questi bug hanno portato a dei calcoli errati nei soldi che giravano negli uffici postali questi calcoli nonostante fossero dovuti ai funzionamenti del software sono stati imputati a impiegati degli uffici postali i quali sono poi stati condannati a risarcire migliaia di sterline molti ovviamente si sono indebitati molti si sono suicidati insomma e adesso c'è un processo che sta cercando di stabilire le compensazioni intanto le colpe di chi sapeva e ha poi lasciato che venissero accusati ingiustamente circa 700 impiegati delle poste e poi appunto le compensazioni che sia UK post office che Fujitsu dovranno dare la notizia che vi voglio dare viene da venerdì perché c'è stata un'audizione venerdì il CEO di Fujitsu Paul Patterson ha rilasciato alcune dichiarazioni e la più impattante insomma è che loro sia Fujitsu che il post office erano ben consapevoli di tutti i bug che aveva Horizon questo software fin dall'inizio fin dal primo deploy vi leggo la dichiarazione tutti i bug e tutti gli errori erano conosciuti su tutti i livelli da molti molti anni addirittura dall'inizio dal primo momento del deployment del sistema c'erano bug c'erano errori c'erano defects quindi difetti diciamo che erano ben conosciuti da tutti da tutte le parti e vi leggo un altro estratto dalla testimonianza quando i bug furono scoperti delle testimonianze dallo staff di Fujitsu che dovevano poi arrivare in tribunale ecco furono editate furono modificate dal post office quindi dalla dalla poste britanniche per mantenere insomma la linea che in realtà stava andando tutto bene che non c'erano che non c'erano bug quindi nonostante alcuni da Fujitsu cercassero di far notare che c'erano i bug dal post office modificavano queste dichiarazioni questi statement e quindi veniva nascosto il fatto che i bug c'erano ed erano conosciuti e un articolo del Financial Times dice da un'audizione di dicembre che si era scoperto già appunto che il post office editava le testimonianze dei testimoni di Fujitsu e quindi riguardo ai bug software conosciuti fin dal 99 ecco Patterson poi ha dichiarato in un statement che Fujitsu si vuole scusare per questa enorme ingiustizia e ammette di essere stato coinvolto fin dall'inizio che avevano bug avevano errori nel sistema e che avevano aiutato il post office ad accusare ingiustamente tutti questi impiegati e per questo dice siamo assolutamente e davvero dispiaciuti inoltre dice al Parlamento in audizione che Fujitsu ha un obbligo morale di contribuire alle compensazioni per le vittime poi c'è una domanda di un avvocato che rappresenta le vittime di post office che gli chiede ma visto che eravate a conoscenza dei bug degli errori nel software nessuno all'epoca aveva fatto una connessione tra il pure code dice quindi codice fallato che era stato deployato in produzione e dati sbagliati che uscivano dai conteggi degli uffici postali e Patterson ha risposto guarda non importa che qualcuno si chiedesse della connessione tra cattivo codice e cattivi dati la verità è che tutti sapevano che gli errori erano certamente dovuti al software e non all'errore umano e questa era una cosa che sia Fujitsu che il post office conoscevano perfettamente fin dal 1999 questo per dirvi un po' l'aggiornamento sul processo c'è un altro piccolo aggiornamento però giusto per fare un po' di colore Fujitsu ha dichiarato che non parteciperà più ad appalti pubblici in UK fino a che questo processo questa vicenda insomma sarà conclusa questo l'ha dichiarato Fujitsu purtroppo l'ha dichiarato un po' tardi perché ha appena vinto un contratto da 485 milioni di sterline quindi dice poi The Register 614 milioni di dollari e quindi insomma purtroppo se ci avessero pensato no qualche giorno prima avrebbero evitato purtroppo gli è venuto in mente adesso un membro del Parlamento ha poi riferito a The Register che sono contenti ecco della decisione di Fujitsu di fermarsi dal partecipare ad appalti pubblici ho due puntate fa abbiamo parlato di Google quella scorsa di Apple questa tocca parlare di Microsoft e c'è una notizia croccante riguarda Microsoft ed è un attacco hacker ha fatto il giro praticamente di tutte le testate è passata da quelle specializzate a quelle generaliste infatti trovo una menzione di questo fatto sul post che sfrutto così per vedere un riassuntino di quello che è successo vado a leggervi da questo articolo del post venerdì sera il team responsabile della sicurezza informatica di Microsoft ha detto di aver scoperto un attacco ai propri sistemi aziendali da un gruppo di hacker legati alla Russia i responsabili sarebbero un gruppo noto come Nobelium gli stessi che tra il 2020 e il 2021 avevano organizzato il cosiddetto attacco SolarWinds contro diverse agenzie governative statunitensi considerato uno dei più gravi attacchi di spionaggio informatico mai subiti dagli Stati Uniti riprendo un attimo la parola per ricordarvi che SolarWinds fu un attacco di tipo supply chain cioè fu attaccato un software prodotto da SolarWinds e attraverso un attacco che riguardava gli aggiornamenti automatici della piattaforma tutti i clienti di SolarWinds e si parla di agenzie governative ma Microsoft stessa tra l'altro una marea di aziende sia pubbliche che private negli Stati Uniti ecco furono infettate diciamo cioè furono parte di questo attacco perché essendo colpito un software che tutti scaricavano tramite aggiornamenti automatici ecco che tutte queste risultarono poi accessibili perché il malware introdotto nel software di SolarWinds consentiva l'esecuzione di comandi da remoto quindi si parla appunto si è iniziato lì davvero a parlare dell'importanza della protezione della supply chain perché una vulnerabilità in un software presente in una catena appunto che viene scadicato da un sacco di soggetti diventa poi parte di attacchi successivi che riguardano poi tutti gli altri insomma quello fu l'attacco SolarWinds torno a leggere nel caso di Microsoft gli hackers sarebbero riusciti ad accedere a una percentuale molto piccola di account di posta elettronica di alcuni membri della dirigenza dell'azienda poi dice una cosa che dice il Microsoft Security Response Center che hanno estratto alcune email e documenti allegati ma non si sa quanti l'attacco cominciato alla fine del novembre 2023 e scoperto a metà gennaio non avrebbe coinvolto i profili di alcun utente quindi si tratta soltanto di profili aziendali vado su Bleeping Computer per avere qualche dettaglio in più dice Bleeping Computer l'azienda ha appunto si è accorta di questo attacco il 12 gennaio con investigazioni che hanno poi determinato che gli attaccanti sono un gruppo russo conosciuti tipicamente come Nobelium Microsoft dice che gli attaccanti hanno si sono introdotti nei loro sistemi nel novembre 2023 e hanno condotto un attacco di tipo spray di tipo password spray che ha avuto accesso a un test account di non production quindi un test account non di produzione c'è un dettaglio sul tipo di attacco un password spray è un tipo di brute force attack dove l'attaccante colleziona una lista di potenziali login name e poi prova a loggarsi su ognuno di questi usando una particolare password se quella password fallisce allora ripete il processo con altre password fino a che esauriscono i nomi e le password oppure riescono a entrare e il fatto che gli attaccanti fossero stati in grado di accedere all'account usando un attacco di tipo brute force indica che non era protetto con una two factor authentication o una multi factor authentication che peraltro sottolinea Blippin Computer è una pratica che Microsoft raccomanda per tutti i tipi di account online una volta che gli attaccanti hanno avuto accesso a questo test account Microsoft dice che Nobelium l'ha usato per accedere a una piccola percentuale di corporate email account di Microsoft per più di un mese e comunque poi giustamente sottolinea Blippin Computer non è chiaro come è possibile che un test account non di produzione abbia avuto il permesso di accedere ad account invece di executive di Microsoft che evidentemente stanno in altri sistemi se questo era davvero un test account ma va bene Microsoft poi conferma che questo breach non è stato causato da una vulnerabilità dei prodotti e servizi ma da un attacco di tipo brute force e comunque basandoci sulle informazioni molto limitate distribuite da Microsoft sembra che una grossa parte di questo attacco è dovuto in realtà a una configurazione sbagliata o comunque non particolarmente raffinata degli account che sono stati poi violati c'è poi una piccola conclusione su chi è Nobelium dice Nobelium che è conosciuto anche come Midnight Blizzard APT29 o Cosybear è un gruppo russo un gruppo di hacker sponsorizzati dallo Russia come stato che si pensa sia parte del Russia Foreign Intelligence Service SVR che è stato collegato collegato a numerosi attacchi nel corso di questi anni e gli attaccanti sono proprio quelli che hanno diciamo preso della notorietà hanno guadagnato notorietà con l'attacco a SolarWinds nel 2020 poi Microsoft tra l'altro aveva confermato di essere anch'essa tra le vittime dell'attacco a SolarWinds e che a causa di quell'attacco gli attaccanti avevano rubato del codice sorgente di alcuni servizi di Azure di Intune e di componenti di Exchange e peraltro conclude l'articolo nel giugno del 2021 gli attaccanti avevano briciato di nuovo Microsoft attraverso un corporate account quindi un account con qualche privilegio in più questa volta che poi gli ha permesso di accedere ad alcuni sistemi del supporto clienti prima di chiudere come sempre un paio di link che ritengo frizzanti da condividere con voi il primo si intitola A Million Ways to die on the web è un wiki lo trovate proprio come wiki su wiki.archiveteam.org comunque questi link poi vi li lascio nella descrizione dell'episodio e questo è un wiki che raccoglie molto simpatico raccoglie un po' tutti i modi possibili per cui un sito un servizio una web app insomma un qualcosa un soggetto sul web muore raccogliendo appunto esempi storici quindi per esempio muore perché è abbandonato e fa l'esempio di Geocities di Sweepnet di Quizilla che Marco conoscevo oppure è stato distrutto da una competizione da un competitor come per esempio Friendster oppure è stato che ne so acquisito come appunto l'esempio di Yahoo Voices o di Bleep.tv insomma fa vari esempi di servizi che ci ricordiamo dal passato che sono poi scomparsi ecco cerca di elencare in un elenco che magari si amplierà in futuro come mai questi servizi sono appunto scomparsi una cosa così simpatica divertente che per vedere un po' se vi ricordate che esistevano dei servizi che oggi non esistono più e perché sono poi scomparsi ripeto il nome del sito a Million Ways to Die on the Web poi vi lascerò il link e in chiusura un post sul blog di Smart Fabric il più frizzante diciamo tech blog della rete dell'internet e perché lo scriviamo noi con tanto amore e tanta attenzione al dettaglio questo è un blog post tecnico ed è rivolto specificamente agli sviluppatori React se siete uno sviluppatore React e vi siete trovati o vi trovate o vi troverete nella necessità di dover scrivere un form che sta dentro una modale è un form dinamico che abbia proprio tutti gli aggiornamentini tutte le cose frizzantine dentro una modale ecco noi anzi noi grazie a Antonio Barile mio caro collega in Spark abbiamo scritto un blog post tra l'altro molto molto esattivo un tutorial esattamente un tutorial con tutti i bei snippet di codici guardate anche che belle le animazioni che vi fanno vedere che cosa succede e vi guida proprio nel tutto il percorso per creare un form dentro un form dinamico dentro una modale e quindi se avete questa necessità o semplicemente se volete vedere come si scrive del codice corretto e si crea un componente React piuttosto avanzato ecco con delle funzionalità piuttosto avanzate vi potete leggere questo articolo di cui non vi ho ancora detto il titolo ma ora ve lo devo dire perché altrimenti come fate a trovarlo vabbè lo trovate se andate sul techblog di sparkfabric tech.sparkfabric.com ma anche se cercate upcert dialog in React questo è il titolo del blog post upcert dialog è anche il titolo del componente che il buon Antonio ha creato per voi e per questo tutorial quindi ripeto per l'ultima volta che poi troverete anche nelle note nelle descrizioni di questo blog di questo podcast upcert dialog in React sul techblog di sparkfabric per tutti quelli che hanno bisogno di creare un form in un dialog mi fermo qui grazie a tutti quelli che mi hanno seguito anche oggi due piccolissimi aggiornamenti domani non ci sarà buongiornissimo perché domani sarò a registrare l'episodio primo del 2024 di Continuous Delivery e sarà una figata atomica perché domani ci sarà Kenobit Kenobit per chi non lo conosce è un pazzo che crea tra le altre cose fa mille cose ma tra le cose per cui è più conosciuto crea della musica elettronica dai Game Boy e quindi porterà dei Game Boy creerà della musica per noi suonerà della musica per noi con noi faremo una puntata molto musicale ci divertiremo tantissimo suderemo anche tantissimo vi consiglio di seguirla se riuscite in diretta alle 17 sui canali di Continuous Delivery altrimenti poi ve la doniamo in podcast da mercoledì per divertirvi un po' e scoprire anche questa forma d'arte che crea Kenobit e l'ultimo aggiornamento invece è una cosa che riguarda soprattutto me domani farò anche uscire un video non ve li lascerò soli sul mio canale perché uscirà un video su YouTube poi magari poi dovrebbe uscire anche su altri in altri formati ma comunque per voi uscirà un video su YouTube un video di 5 minuti in cui racconto un pochino la storia della Playstation della prima Playstation che è più interessante di quello che pensate ho cercato di riassumere un po' di prendere un po' di filmatini di fare un po' di montaggio frizzante e insomma raccontare un po' quella storiella e troverete appunto domani sul mio canale la storia della prima Playstation basta ho finito qui davvero grazie di nuovo a tutti noi ci vediamo nel corso della settimana per altri buongiornissimi ciao grazie a tutti